E' iniziato, è iniziato, è iniziato Ottima qualità devo dire E' un commento eronico Vincenzo? Attenzione, la prova ha girato a scontano Una grande parata Di giocare la palla Sa andare uno, due avversari ma non riesce E' una grande ripartenenza A questo corcio d'angolo salgono le torri, allo e mezzo Musa! Musa! 2 a 0! 2 a 0! Arriva Musa, che è corrisposto! Arriva lui! Infrigente! Infira, ballando le passi! Perché c'è il link, no? Però il link ti posta nel tuo profilo e se non sei amico, non la vedi! Attenzione! Mamma mia! Infiro! Grande parola di Vinta! Una palla che poteva essere... Diverso laterale, ora da Anna! Catania! Palla e mezzo, attenzione per Cucino! Cucino! Grande risposta del portiere! Veramente! Cucino che forse fate la tensione! Alla battuta Alio! Alio e mezzo, attenzione! Mamma mia! Andiamo al chiamato! Alio Slava per rispondere! Bombo! Ricomincia! Un è più perfetto! Un è più perfetto! Un è più perfetto! Attenzione! Illuminio che ci prova! Oooo! Grande parata di Ditta! Grande parata di Ditta! Un è più perfetto! Con questo gioco! Gioca! Attenzione! Attenzione ancora! Gioca! Portiere ancora? Scherza! Va al topo! Riporio! Attenzione! Può far nascere l'uno che è solo da gol! Gioca! Gioca! Attenzione Giovanni! Gioca! 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 Che è la parata! Pera di netto! Deve ho fatto uno due con l'insinna! E finisce qui! Gioca! 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 Gioca!